qua abbiamo il bravissimo cucinatore ruolo siamo in scellanze come al solito nel chilling vero signorito buongiorno amici noi stiamo guardando una serie tv intanto mi sa che anche oggi pomeriggio ci rilassiamo così no bello è interessante altro che la scala di milano il corso paddy che fa il brevetto su metro e vinti pensi che lui ci fa il brevetto paddy quasi pubblico andiamo bene veramente certo impressionante ma chi è quella bambina bravissima chi è quella bambina bravissima no ma è bravissima ha un talento soprannaturale saremo dei poveri siamo sportivi adesso stiamo raggiungendo i miei quindi andiamo tutti quanti più confiabili a probabilmente ucciderci Diego non pensavo potessero venire gli anziani chiara guarda che sopra i 40 è vietato entrare sta per iniziare la sfida anziani versus giovani guarda lui è ninja vabbè dettaglio mamma mia no 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 noно no 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 occhio in due E così atterri dritta Ma non No, no! Alessabella! Alleluia! Alessabella! Ba il suurma, ba il suurma! Conil楽! La ca... A presto! Sto schifando Ah si anziani che non riesco la salita Fami tirate su No! No! No, 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 no. No, 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 no. Ormai si si arrende alla fine, lo si arrende, si butta, non ce la fa più a combattere. No, 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 no. Comentate tutti con Diego number one. Number one. Diego number one. Bene, signori, andiamo a conquistare Iesolo. Ci dirigiamo in Piazza Nazioni. Noi entri, il Buon Viane. Si chiamano Vianello entrambi, dico il nome. E anche il Buon Giollo. Oh, Giollo, ma una felpetta, non potevi metterla? Un Moncler, qualcosa? Non lo lasciare come Mario De Noghi. Eccoci qua in quel di Iesolo. Roma is Cancelled. Pioi ci siamo rincontrati anche con il Buon Manto e il suo solito costume. Filiissimo. Attenzione, scuderia in azione. Scuderia, lavoro molto professionale. Noi ormai siamo partnership, sponsor di tutto qua. E sono arrivata anche io. Purtroppo. C'è Roma e qua c'è Lidro. Ciao, ciao, Fisi. Stai cadendo. Meglio che riprendo il telefono io perché sennò qua il blog fa schifo. Comunque salutiamo Iesolo. Sì, va bene, le connessioni, non importa, fa un caldo, beh, se c'erano 50 gradi. Siamo in stazione, non so, 50 gradi. Siamo in stazione che aspettiamo il bus per loro e aspettiamo mia mamma che mi venga a prendere. Seguitemi su Instagram, seguiamo Telefieri, vi tagliamo qui il link. No, seguite la sua Instagram. E niente, vi mando un bacio. Notte, fiorillini. Io vado, mi imbibbuto. Buongiorno, signori. Fa un caldo che neanche in Arabia Saudita fa. No, io sono stato veramente in Arabia Saudita. Porca mi sa in Arabia, non si è caldo. No, fa un caldo fuori di testa, stiamo morendo. Adesso io devo prendere il bus per andare a Iesolo. Tommiamo qui anche la Chiara e morirò. Bene, fiori, siamo vicino a Cappanina Beach, in Piazza Mazzini, e io sto ufficialmente morendo di caldo. Sono qua con Lorenzo. Ciao ragazzi. Adesso si mangia perché abbiamo una fame, poi ci buttiamo subito in acqua perché io non so se c'è questo qua, è tutto sudore, ragazzi. Cioè, ho la schiena tonta. Bene, signori, e come lo scorso sabato, adesso andiamo a prenderci il pedalo e ci sprechiamo. Abbiamo perso un uomo in acqua, là in fondo. Scontro. Abbiamo pure la musica, signori. Ciao ragazzi, sono in Piazza Aurora. I soggetti sono qualcosa di ignorante. Ovviamente oggi siamo in spiaggia. E niente, adesso andiamo a fare il bagno, quindi ci vediamo dopo. Eccoli, direttamente dall'Arabia Saudita. Giolo e Raya, signori. Oh, ma no, ma ve lo siete messi perché faceva troppo freddo prima. La serata continua. Stiamo andando a mangiare in Piazza Mazzini. Ormai anche il pizzaiolo è un buon romanzo. Ma che classe. No, Roma. Ciao mamma. Adesso c'è un po' la spiaggia in scellanza. Signori, le condizioni sono queste, i verdetti. È morta, è morta, è morta. Facciamo come i banglani sul spiaggia. L'abbiamo di cinematiche, cinematiche. Signori, la serata continua. Lui è a sigla da poco, quindi si va a brindare. Salutiamo il nostro bel bungalow perché adesso me ne vado in Sardegna, signori. Amici, ci sono state due belle settimane. Ci vedremo fra altre due settimane in barca. Esatto. Signori, salutiamo il buone Doviane. Seguitelo su in sta. Oggi ci parte per la Sardegna, ma guardate cosa c'è qui. L'ho lasciato a casa dei miei nonni. Non ve l'avevo mai detto. L'ho lasciato qui che hanno il garage. E devo dire che mi è mancato, però tornerà presto sul canale. Torno tra due settimane dalla Sardegna, quindi sicuramente faremo un botto di video. Sardegna, ma guardate cosa c'è qui. Sardegna, ma guardate cosa c'è qui.